Durante il lockdown causato dal covid ci siamo dovuti allenare a casa o in spazi improvvisati all'aperto nutrendoci comunque di baseball ogni santo giorno per placare la nostra fame di pratica ma la nostra sete di sapere ci ha lasciati assetati Ma qual è la ricetta per un vlog a vincente interessante sul nostro sport? Beh sicuramente 100 grammi dei più grandi campioni di tutti i tempi per ogni litro d'acqua un pizzico di sole del baseball una manciata di attrezzature e abbigliamento tecnico 100 grammi di sport americani un cucchiaino della settimarte qualche pezzo di esperienze e storie di giocatori o appassionati e per quando vi sentite demotivati vi consigliamo di aggiungere un po' di determinazione Aggiungete un po' di pazia quanto basta e frulliamo il tutto per qualche secondo Ed ecco a voi The Baseball Family Un vlog fresco, originale ed innovativo Vlog The Baseball Family puntata 0 a cui si aggiungeranno sempre nuovi ingredienti per renderlo sempre più invitante ed inebriante E ciao ragazzi e benvenuti Vlog The Baseball Family puntata 0 seconda parte Secondo Chuck Secondo Chuck Ciao ragazzi, io sono Enea, siamo la Baseball Family Vlog 0 per 5 The Baseball Family Questo è il mio saluto Il secondo anno delle superiori all'istituto nautico per diventare capitano Io sono il più serio Dopo aver cercato in vano su internet se qualcuno avesse mai fatto un canale in italiano sul baseball Siamo rimasti a bocca asciutta Perché non c'era nulla che ci soddisfacesse Questa delusione ci ha portato a realizzare tutto quello che noi avremmo voluto vedere nel web Come vedete abbiamo personalizzato tutto La bandiera di Trieste Qua abbiamo scritto Ettore Etto Wiesel Hashtag 65 Anche i lacci si potevano personalizzare E che dire, sono molto molto morbidi Passano molto bene Ve li consiglio Ovviamente Vi lasceremo il link in descrizione Qua c'è anche la scritta DOMINETT Tutte le abbiamo fatto in domani Trovo Grazie a tutti Scampo è great, great guys, love every kid, you know, it gets better. Allora, chi poteva farlo se non una famiglia in cui tutti praticano questo bellissimo sport, coadiuvati con la maestria e la tecnica che nostro padre ha messo a disposizione per rendere la professionale nell'aspetto e nei contenuti. Grazie a tutti. La cosa più bella che mi porta nel cuore è aver conosciuto Alex Meister, un lanzatore come me. Ho giocato in tante squadre, anche con la nazionale italiana. In tanto di ghiaccio, ma... E dopo mi sono decisa e ho giocato anch'io. Nel primo giorno c'era Anna Battigelli. È una coach bravissima, super simpatica. Che ho imparato tante tante cose molto divertenti perché non abbiamo fatto le stesse robe. Ma anche i nostri genitori portandoci ai campionati, ai tornei cinque volte la settimana, partecipano anche loro in un certo modo al baseball. Tanta fama! Bravo! Bravo! Ben in Alpina ho imparato a giocare a baseball e anche come avevo detto a imparare a lanciare. e sapevo che quello era il mio ruolo, pitcher, cioè il lanciatore perché non so cosa vuol dire. Nel baseball si può vincere o perdere. E si può perdere anche solo per un atteggiamento mentale sbagliato. Possono succedere infinite cose in campo. A volte puoi sbagliare. A volte puoi dubitare. A volte puoi guadagnarti un bol. Tutto così sempre dipende da te stesso o meglio dalla tua mente. Dipende da te. Puoi farcela. Devi crederci. Sono stato convocato all'emozionale italiana categoria under 12. Per me è stata una grande emozione. Un'esperienza inattitabile. Qui troverete tutte le cose più disparate. riguardo il mondo del baseball e non solo. Un condensato di tutto quello che avremmo voluto vedere. Ma in un unico canale. Un'esperienza di visione ricca di apprendimento. Divertimento, svago, informazione e molto altro ancora. Facciate un like e iscrivetevi. Tirate la campanellina. Io sono Enea Wieser e questa è la Baseball Family. Enea Wieser. Enea Wieser. Enea Wieser. Enea Wieser. Questa è la Baseball Family. Questa è il mio saluto. Ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Viva il baseball. Viva la vita. Ciao. 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 Ciao.